Uno sguardo diverso proiettato al mondo della giostra con un'attenzione particolare ai preparativi della manifestazione durante l'anno. Questo è il senso della mostra organizzata al gruppo fotografico Maya Peligna di Sulmona, dedicata ai borghi e sestieri, protagonisti del torneo cavaleresco, alle dame e ai cavalieri. Circa 15 artisti espongono i scatti di giostra, momenti unici che vanno ad immortalare sguardi, abiti e costumi d'epoca, scenari mozzafiato e i tanti aneddoti legati alla giostra. La chermesse si compone di una mostra fotografica collettiva e di tre personali. Con questa mostra vogliamo puntare l'accento su tutte le fasi della preparazione di questa grande manifestazione, dalle gare al corteo e all'addestramento dei cavalli, spiega il presidente Paolo Di Menna. Uno sguardo diverso al mondo della giostra dedica più attenzione ai preparativi e alla vita della giostra stessa durante l'anno. Non a caso uno degli espositori rappresenta un momento che è quello di preparazione e di allenamento degli sbandieratori, così come è dedicata molta attenzione su chi fa l'addestramento per i cavalli. Una piccola vetrina che diventa una forma di marketing territoriale anche per i numerosi turisti presenti in città. A farlo notare il vicepresidente del gruppo Fernando La Civita. Far conoscere questa città, quello che si fa in questa città e queste nostre manifestazioni, anche perché noi non facciamo solo questa sulla giostra come mostra, ma facciamo mostra sul tema religioso a Pasqua e a fine anno facciamo il tema libero, un'altra mostra per tutti i soci dell'associazione. La mostra, esposta nella Cappella del Corpo di Cristo della Santissima Annunziata, resterà aperta fino al 5 agosto.